I numeri, volete un'addizione? 3 più 2 è 5, volete una sottrazione? 7 meno 5 è 2, lo volete più complicato ancora? 3 più 2 è 5 è 5 è 10, meno 7 è 3, volete Ducotone? 3, 2, 5, 7 Perché il Ducotone battericida antimuffa è autorizzato dal ministero della sanità con decreto numero 3, 2, 5, 7 Ducotone, casa bella e sana, che splendore, festa di color, giallo, rosso, verde, viola, rosa, nero, bianco, blu, dunque provalo anche tu Batterie muffa vi saluto e contro gli insetti in edizione speciale Ducotone con insetticida Un prodotto Montecatini